Ristretto italiano. I media internazionali scrivono di noi. Buongiorno e buona settimana. Anche i giornali russi parlano bene dell'Italia, ma attenzione, lo fanno, o almeno lo fa Sputnik News, il giornale più vicino alla propaganda di regime di Mosca, lo fa dopo la manifestazione antinato dei Cinque Stelle di sabato scorso. Il titolo di Sputnik News è L'Europa non è un alleato degli Stati Uniti, ma è un suo lacché. L'articolo, come vi dicevo, è sulla manifestazione antinato dei Cinque Stelle di sabato scorso a Roma, una marcia alla quale hanno preso parte anche la Schlein, Fratoianni, Grillo, Moni Ovadia, l'attore del quale Sputnik ha molto apprezzato il discorso antiguerra. Un conflitto, ha detto Moni Ovadia, abilmente preparato da molti anni e la cui scintilla è scattata con la decisione di allargare la Nato a Est, nonostante gli impegni che furono presi con Gorbachev. Quindi non fu un'aggressione di Putin all'Ucraina. Attenzione, europei, ha continuato Ovadia, che gli americani vogliono trascinarvi in una guerra contro Mosca. L'appoggio del giornale di Mosca è anche per l'ex premier italiano Conte, che, come sappiamo, è da sempre contrario alla politica della Meloni pro-Ucraina, e anche della decisione di continuare a mandare armi a Kiev. Voltiamo pagina, ma per tornare ancora una volta a parlare di Berlusconi, perché ne parla un giornale lussemburghese, Wart, che titola Berlusconi era un populista bonario, e lo traggo da un podcast del corrispondente dall'Italia di Wart, che è Dominic Straub. Berlusconi, scrive Straub, fu davvero il politico più influente e controverso in Italia dai tempi di Mussolini. Preparando il podcast, Straub dice di avere consultato l'archivio dei propri articoli e di avere scoperto, di avere menzionato il nome di Berlusconi da quando è in Italia, in 1418 dei suoi testi. Quindi, lui dice, se consideriamo ogni articolo lungo almeno due pagine di un libro, quello che ho scritto sarebbe un libro su Berlusconi di almeno 3000 pagine, solo di quello che lui, appunto, ha scritto per un unico giornale lussemburghese. Se fuori dall'Italia, scrive il lussemburghese, Berlusconi si faceva notare per il suo lato bizzarro, in patria ciò che è sempre stato più evidente di lui è la sua caratteristica empatia. Insomma, i democristiani che lo precedettero avevano l'ambizione di educare gli italiani ad un maggiore civismo. Poi è arrivato lui e ha detto, guardatemi, ho i vostri stessi difetti, non amo pagare le tasse, ho problemi con la magistratura, votatemi. E gli italiani hanno votato. Un populista sì, ma un populista bonario. Che cosa succederà ora al suo partito? Si chiede l'analista straniero. I parlamentari di Forza Italia strasmigreranno negli altri due partiti della coalizione? O ritroveranno la forza di fondare quel partito di centro normale, moderato, borghese che in Italia non esiste più da 30 anni? Cambiamo di nuovo argomento, veniamo alla storia di copertina che ho scelto per oggi. È il Morgenpost da Berlino che titola Sempre più tedeschi annullano le vacanze estive in Italia. La scintilla è stata rappresentata dalle inondazioni di maggio in Romagna. Tutto è tornato a posto, gli stabilimenti sono a posto, gli alberghi sono aperti, le ferrovie di nuovo funzionano, ciò nonostante gli stranieri continuano a tardare. Oggi un tedesco su due scrive l'articolo a disdetto la prenotazione che aveva fatto su giugno. Perché? Perché in Germania, la stessa testata di Berlino che lo ammette, c'era la percezione errata che tutta la riviera adriatica, quindi non solo Rimini, Cesenantico e dintorni, fosse rimasta disastrata. E chi ha abbandonato l'Italia ha optato per la Spagna, per la Croazia e per la Grecia. Quasi tutti i tedeschi che vengono in Italia lo fanno in auto per caricare tutte le cose che servono per andare in spiaggia, quindi di lottare sulla Croazia ancora prima che su Grecia e Spagna, per loro non cabbia granché. Nessuna cancellazione invece, confermano le piattaforme di viaggi, è arrivata da chi si muove in aereo. E per rimanere in Germania parlando di turismo c'è Impranken, un'altra testata tedesca, che titola Aumento dei prezzi anche in Italia, ma in maniera più contenuta che da noi. Insomma, l'Italia passa ancora per una meta turistica a buon mercato, non solo per gli americani, ma anche per i turisti dei nostri partner europei. Scrive Rupert Matgei, giornalista di questa testata, che arrivando in Italia sulle spiagge venete, lui si è trovato sì di fronte a dei prezzi rialzati, ma non a livello di quelli tedeschi. Racconta per esempio che a Chioggia, con tre euro e mezzo, si è fatto un apero lo spritz e ha avuto i cicchetti, cioè quelle tartine, quei panini di accompagnamento, a un euro e mezzo l'uno. Al bar dello stabilimento di Sottomarina poi ha trovato economicissima la bottiglietta d'acqua da mezzo litro a 1,50, la birretta a 3 euro e il cappuccino a 1,70. Per l'acqua in bottiglia c'è comunque da dire che ovunque, all'estero, da sempre, si paga una follia. E c'è anche da aggiungere che qui il caro giornalista tedesco avrebbe potuto trovarla anche a metà di quell'euro e mezzo che l'ha pagata. Per sentirsi finalmente a casa, conclude l'articolo, per sentirsi a casa come prezzi, dice di essere dovuto andare al centro di Venezia per poter finalmente pagare una pizza normale 20 euro. Concludiamo con la notizia archeologica che ci fa molto onore. La tavoletta restituita all'Iraq è Al Kalei, il giornale del Golfo, da Dubai, che titola L'Italia restituisce all'Iraq una tavoletta cuneiforme di 2.800 anni fa. Non si sa come il reperto archeologico fosse arrivato in Italia. I carabinieri lo hanno recuperato nei mesi scorsi e si ritiene sia entrato qui da noi negli anni 80. Poi le autorità irachene pensano che possa essersi trattato di una scoperta durante gli scavi archeologici alla diga di Mosul e poi fatto sparire all'epoca. Era appunto il 1980. Sulla tavola, scrive l'articolo, sono riconoscibili le insegne di Salmanassar III, re Assiro, che governò la regione di Nimrud nel nord dell'Iraq dall'858 all'823 a.C. Leggiamo che le autorità italiane hanno restituito il prezioso manufatto al presidente iracheno Rashid durante la visita di Bologna di mercoledì 14 scorso e che i ringraziamenti ufficiali sono arrivati ieri durante una cerimonia nel palazzo presidenziale di Baghdad. L'Iraq afferma che si impegnerà a recuperare dall'estero tutti i reperti appartenenti alla storia irachena per fare del museo archeologico di Baghdad uno dei migliori al mondo. E noi glielo auguriamo e speriamo che i governi italiani che da oggi si succederanno continueranno a collaborare in questo senso. Io per oggi ho finito. Vi aspetto domani. Buon lunedì a tutti.